oh ma salve non respiro non vi avevo visto entrare e dovrebbe arrivare un pacco a breve wow queste magie arcane mi sorprendono sempre la mci mi ha mandato un computer della nuova linea nome in sovraimpressione e poi dovrò ritare indietro purtroppo per farci qualcosa di creativo siccome proprio domani io sarò da dolly noir a personalizzare un capo dal vivo ho pensato di chiamare il mio amico solfi per fare una live proprio con questo computer il suo canale twitch il suo ci vedremo anche un video fighetto sempre da montare con questo stesso computer nel vedere cosa si riesce a fare quindi a livello a livello lavorativo con questo gioiello vediamo attenzione attenzione wow true gaming davvero gamer quindi signori è sempre un po vagamente tamarro da gaming però quello che ci interessa vedere è la potenza di questo gioiellino l'eternet ma le porte qui dietro ci sta andiamo a settare il tutto per la live l'hiker è riuscito nel suo intento vediamo tutto il set delle sue live fammi vedere una transizione che webcam mettiamo tutte e due dobbiamo metterle abbiamo bisogno almeno di due webcam due telecamere una che guarda il disegno su cui lavoro dall'alto un'altra che inquadra noi giulio quello che è interessante di questo portatile che include invidia geforce rtx 2070 super con i nuovi driver invidia specializzati per i creativi e quindi funzionano bene con programmi come quelli della adobe premiere after effects e for sure alimento a me e e e e e grande bro salve tutto bene grande impostata qua ti ho messo in un mood un pochino più diciamo interattivo anche con l'esterno quindi sei in piedi spero non sia un problema se proprio dove avessi bisogno c'è comunque uno sgabello alto e allora io impostato ho fatto già partire alla diretta mia come ti dicevo poi magari così a tempo perso ci potrai ci puoi dare anche un'occhiata tu a dire non riesco a impostarla portati cinese e ci troviamo qua perché siamo stati invitati lui a disegnare una maglietta io a riprendere noi che disegniamo una maglietta come si chiama il cappello da samurai bella a tutti bella a tutti ciao ciao dov'è dov'è ciao ciao a te oh ciao 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 a peo ha un intopo coi colori tra l'altro siamo live anche sul canale di dolly noir dovete sapere che io ho accettato oggi con peo solo ed esclusivamente perché ha detto bambino se vieni con me a fare sta cosa ti prometto che ti faccio 29 moticon ciao chat voi sarete nel video di peo ma che bella che bella ripresa ti sto facendo però da pesare tantissimo questa è il video di un video tra tutti i saluti salutate il video di peo in chat per piacere vai peo dona però devi donare dammi il tuo telefono ci penso io ci penso io non ho 50 abbonamenti a chi la fede la fede bella benvenuta benvenuta la fede signori eccolo qua finito la live andava molto bene il pc ha fatto il suo lavoro la mia mano spero anche sono stanco sono le ore 6 abbiamo iniziato alle 15 e mezza all'incirca più o meno andiamo a casa ma c'era anche giulio bellissima un capolavoro carissimi come si vede come si vede come vediamo grandioso bellissimo grazie grazie bene signori video finisce praticamente qui vorrei sapere nei commenti una vostra opinione sul disegno fatto sul capo di dolinoire che potete acquistare la in negozio se siete a milano e se qualcuno di voi lo dovesse comprare per favore fatemelo vedere su instagram tramite messaggio privato taggandomi è uguale comunque breve conclusione anche su questo computer questo msi spinge si pubblicizza soprattutto per il nuovo driver nvidia delle rtx studio fatto sta che la velocità si vede la potenza di calcolo si sente soprattutto in fase di rendering e io ho lavorato con video 4k della fujifilm che sono un formato ultra pesante bastardissimo hvec punto è un formato che il mio computer fisso stesso odia quindi se questo portatile se l'è cavata con quel tipo di video vuol dire che il motore ce l'ha e spinge anche bene quindi se siete interessanti penso proprio che lascerò un link in descrizione se volete informarvi sulle sue specifiche tecniche cose un po più da smanettoni che non mi appartiene adesso come al solito nella chiusura dei nostri video potete cliccare uno dei video che apparirà in sovraimpressione se avete ancora bisogno di una dose il vostro piccolo zio però di quartiere il pulsante iscriviti ma ancora più importante signori la campanella bisogna schiacciarla sta campanella ma dove siamo ma dove andiamo